Leggiamo con piacere sul centro di Teramo di oggi che c'è stato un intervento da parte del commissario per cercare di velocizzare la ricostruzione delle palazzine Ater di Teramo e provincia in maniera particolare. Proprio qualche giorno fa abbiamo portato in commissione di vigilanza questa problematica, abbiamo ancora mille sfollati dopo sette anni dal terremoto, oltre 60 palazzine coinvolte dal sisma 2016.